Vuoi proteggere i tuoi sistemi e le tue caselle di posta? In questo video troverai consigli, semplici ma efficaci, per difenderti dalle minacce più comuni della rete. Prima di tutto, non collegare al PC dispositivi esterni non affidabili. Pensaci bene prima di usare una chiavetta USB che hai trovato o di cui non sei sicuro. Il malware spesso è diffuso tramite pendrive infette. Per questa ragione, molte aziende impediscono attraverso la loro policy l'utilizzo di dispositivi USB personali nei computer di lavoro. Non navigare su siti non sicuri ed evita di collegarti a reti wifi pubbliche e che non richiedono autenticazione. Assicurati che le applicazioni web che utilizzi usino il protocollo HTTPS. Lo puoi vedere in alto nella barra degli indirizzi. Le connessioni e i protocolli di sicurezza sono i canali attraverso i quali passano i messaggi di posta e tutti i tuoi dati. Accedi a portali sensibili, ad esempio webmail, internet banking area clienti, sempre utilizzando connessioni sicure. Se sei in mobilità, utilizza, se puoi, una VPN sicura. Fai attenzione agli avvisi di sicurezza o alle notifiche che ricevi dal tuo computer e dai tuoi programmi. Tieni d'occhio eventuali anomalie del tuo PC come rallentamenti, apertura fastidiosa ripop-up, attività anomale nell'invio e ricezione di email e se hai dei sospetti, esegui una scansione antivirus e modifica le password degli accessi. Mantieni sempre aggiornati i tuoi programmi e il browser che usi per navigare in internet. Abilita quando puoi gli aggiornamenti automatici di tutti i tuoi software. Ti proteggerai dalle nuove vulnerabilità che vengono scoperte nel tempo. Fai sempre un backup dei tuoi dati più importanti. Se vuoi saperne di più, guarda i video correlati a questo e per ulteriori informazioni o consigli puoi anche consultare le nostre guide dedicate al servizio email. C'è un'intera sezione dedicata alla sicurezza.